Il Pia Social Day sta arrivando! Il primo evento a livello internazionale dedicato alla nuova comunicazione pubblica torna il 18 giugno. 18 eventi, 18 città impegnate e tantissimi temi da approfondire. Su web, chat, social e intelligenza artificiale. Tutti gli eventi saranno in contemporanea. E in diretta web e social dalle 9.30 alle 13.30. Il 18 giugno non potete mancare!